Noi oggi possiamo dire che sono state salvate 427 persone e anche due cani, perché c'erano anche due cani a bordo e sono stati salvati anche loro. Ovviamente esprimiamo dolore per gli otto morti, che sono i corpi al momento ritrovati, di cui conosciamo per ora l'identità del primo, che era un greco, di cui era già stata data notizia, mentre per quanto riguarda l'identità delle altre sette persone non abbiamo ancora contezza. Su questo ovviamente è un punto di dolore su una situazione che è stata gestita con grandissime capacità e con veramente una professionalità incredibile da tutte le nostre donne e i nostri uomini che si sono impegnati. Io vorrei leggervi.